Io ancora non ci posso credere ragazzi, ancora io non ci credo, davvero, non ci credo, cioè non ho dormito stanotte quando ho sentito questa notizia, questa fantastica notizia Bene a tutti pagliacce e pagliacce, qua il vostro negozzo e ben ritrovati a bomba, non in un episodio della vita a rete da calciatore, ma nell'episodio della vita a rete da calciatore più bello di sempre che tutti quanti stavamo aspettando Cristiano Ronaldo finalmente, penso che ormai lo sappiate tutti, nella realtà ha accettato di far parte della Juventus, quindi dalla stagione 2018-2019, penso per 4 anni, giocherà nella Juventus come penso attaccanti, sicuramente come attaccanti, non penso come centrocampista Ragazzi si sta avvenendo un sogno fantastico, Ronaldo che va alla Juventus nella realtà e anche nella vita a rete da calciatore ragazzi succederà la stessa cosa Per cui siccome finora le situazioni sono state un po' movimentate, Ronaldo è passata dal Real Madrid, dalla Juve e Buffon dalla Juve a Real Madrid, dal PSG Non significa che siccome uno cambia maglia lo dobbiamo odiare, no per niente ragazzi, anch'io da Juventino sono contentissimo che Ronaldo venga in Italia Però sono scontento che Buffon se ne sia andato e sia andato a giocare nel PSG, anche se comunque lui voleva continuare a giocare nonostante gli fosse stato offerto di far parte della dirigenza della Juve Comunque, tralasciando questo ragazzi, questo è un video speciale perché penso che tutti stavamo aspettando un momento del genere A prescindere dal colore della maglia, penso che tutti volevamo Ronaldo in Italia e adesso Cristiano finalmente è arrivato Quindi, obbligatoriamente, un mi piace ed iscrivetevi al canale per non perdere da adesso in poi i prossimi video perché da adesso ragazzi cambia praticamente tutta, tutta, tutta la serie Perché è incentrata anche sull'Italia dato che Ronaldo, ragazzi, sta andando alla Juventus Quindi da adesso in poi nel gioco vedremo anche molte più cose italiane che sono collegate con la vita reale italiana, la mod della vita reale italiana, diciamo così Dove ci sono Fedez e Chiara Ferrani i protagonisti Quindi ragazzi ci sarà moltissimo da fare per cui non perdete niente di questo video Anzi vi ricordo che a fine video saluto gli ultimi 5 di voi, basta che mi cerchiate e cercate chiocciola realentoni su Instagram E a fine video avrete la possibilità di essere salutati da me e dal nostro nuovo italiano CR7 Quindi vi aspetto Ok ragazzi, benvenuti, benvenuti finalmente in questo video Bene, come vedete forse alcuni di voi ancora non sapevano la grande notizia Ma Ronaldo è stato in vacanza in Grecia, adesso sta appunto tornando allo Santos Quindi ora atterreremo col jet, con il suo bellissimo jet privato esattamente su questa pista che vedete qui Sperando che ce la facciamo, l'ha presa un po' storta Ronaldo, vabbè dai comunque è pur sempre lui Bene ragazzi, direi che l'atterraggio è andato più che bene, anzi benissimo Fermati però adesso Ronaldo Beh, raga, l'ha preso di sguiccio, Ronaldo non è un pilota però, porca miseria L'ha fatto bene, dai Sì, perché come ben sapevate ragazzi, Ronaldo è stato in vacanza in Grecia Quindi adesso, dopo aver avuto la grande notizia Siamo tornati dalle vacanze, adesso scenderemo e ovviamente andremo a parlare con chi di dovere Per firmare il nostro contatto con la Juventus Bene ragazzi, siamo scesi, come vedete io non dovrei guidare comunque i jet privati Perché io potrei metterci dentro, mettermi dentro benissimo a cazzeggiare, a non fare niente Però, ho chiesto al pilota di guidare insieme a me, devo dire che sono stato abbastanza bravo A parte l'atterraggio un po' di sguincio, non drittissimo Però ragazzi, il pilota, diciamo, mi sta dando un po' di lezioni Allora, io ci vorrei dire un'altra cosa importante ragazzi Volete Georgina Rodriguez, sarebbe la fidanzata reale di Cristiano, nella realtà anche su GTA Perché finora abbiamo avuto Jasmine, Samantha, che vabbè è la mamma di Ronaldo Junior, va bene Però, se voi mi scrivete nei commenti, oh mega noi vogliamo Georgina Rodriguez su GTA Ne aggiungiamo anche lei, per cui fatemelo sapere nei commenti ragazzi Questa è una cosa importante, quindi obbligatoriamente tutti voi che state guardando il video Commentate perché, se la volete ragazzi, noi lo aggiungiamo Ecco, vedete ragazzi, devo imparare a fare gli atterraggi come quello lì Va bene, dunque, Ronaldo Junior, Samantha, vabbè Samantha tu rimani qui, devi scaricare i bagagli e tutto il resto C'è una macchina fuori, Ronaldo Junior vuoi venire con me? Ne vedete ragazzi, Ronaldo Junior verrà con me perché è detto che vuole venire perché è contento E alle 5 e mezza avevamo l'appuntamento con gli agnelli per firmare il nuovo contratto Quindi dovremmo darci una mostra, Ronaldo Junior muoviti Ditemi se vi piace, come sono vestito per l'occasione Una giacca blu, una sottogiacca, che ora mi scordo il nome Una camicia e una cravatta marrone chiaro E dei pantaloni neri con delle scarpe leganti Direi ragazzi che ci sta, soprattutto per queste occasioni Devo andare a prendere la macchina che... Non mi ricordo dove ho lasciato l'auto Vabbè, comunque nel deposito qua fuori ragazzi, il solito posto Per cui Ronaldo Junior muoviti, corri Se no non posso più entrare nella Juventus, porca miseria No ragazzi, dobbiamo correre veramente perché adesso va a finire tipo Che arriviamo tardi, facciamo una pessima figura Anche perché alle 5 e mezza era l'appuntamento per poter firmare tutto quanto Per cui non dovremmo fare tardi in certe occasioni Non stiamo a ripensare ai brutti momenti che comunque Ronaldo e Ronaldo Junior hanno avuto Perché ragazzi penso che chiunque abbia dei pessimi momenti Comunque adesso vanno alle ciance Usciamo dall'aeroporto perché non abbiamo molto molto tempo Anzi in realtà ne abbiamo pochissimo Quindi diamoci una mossa perché non vedo l'ora di andare a firmare per entrare nella Juventus ragazzi Quindi penso andrò a fare anche un allenamento, non lo so, penso di sì Ditemi nei commenti se siete contenti che Ronaldo sia arrivato alla Juve Sia nella realtà che nel gioco Perché comunque sapete che noi nel gioco cerchiamo di fare tutto quello che succede nella vita reale Non a caso la serie si chiama esattamente così, vita reale Per cui fatemi sapere tutto quanto perché comunque per me è importante il vostro parere Soprattutto i vostri pensieri perché così possiamo sempre migliorare di più la serie Come vi ho già detto anche il fatto di aggiungere Giorgina Rodriguez è già una cosa in più La macchina l'abbiamo lasciata qui, ora andremo allo stadio Allora vi dico che in maniera ufficiosa ragazzi Anzi non so se sinceramente verrò presentato oggi alla stampa alla Juventus come nuovo giocatore Ma comunque Ronaldo Junior in ogni caso voleva venire insieme a me Quindi ragazzi molto probabilmente ci saranno già i soldi della Juventus con cui allenarsi Tra l'altro non so se ci saranno i fotografi Ma penso che comunque verrò presentato anche in maniera ufficiosa a questo punto Ci sarà sicuramente un po' di gente che starà aspettando Perché la presentazione appunto funziona così ragazzi Si firma il contratto, si fa la presentazione eccetera eccetera Insomma sapete già sono tutte cose che già sapete da un po' di tempo Ok ragazzi siamo arrivati come vedete Come vedete potete vedere tutti quanti qui c'è il mister Allegri Qui c'è Agnelli e qui ci sono gli altri dirigenti Scusate a tutti se ho fatto ritardo C'è ritardo dio Abbiamo fatto più o meno una cosa tutta a posto Tutta a posto sta dicendo Agnelli Allora ragazzi dice che la presentazione verrà breve Adesso verrà un botto di gente Faremo proprio una conferenza stampa Lì ci sono anche dei fotografi Quindi verrò diciamo presentato in maniera ufficiosa alla Juventus Quindi poi mi verranno anche data la divisa e tutto il resto Per cui ragazzi sarà veramente una cosa spettacolare State tutti pronti perché questo video sarà qualcosa che sancisce altri video veramente spettacolari Ma che fai? Quante volte avrei visto sta foto? Lo so che ti piace lo stadio Però la cerimonia diciamo di inaugurazione sta per iniziare Mi stanno aspettando Come vedete c'è gente che urla il mio nome Dice Ronaldo 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 Insomma ragazzi sarà una grande e bella bellissimo pomeriggio giornata Quello che è passato con i fan con i dirigenti della Juventus Perché diciamo che adesso ragazzi si apre un nuovo mondo Quindi adesso dovrei inventarmi qualcosa da dire soprattutto alla stampa Perché sicuramente ci saranno miliardi di fotografi ragazzi E ci saranno anche miliardi di fan Vabbè miliardi esatto Esagerato Hanno fatto entrare solo una cerchia stretta di magari persone che hanno dei contatti Oh guarda quanta bella gente Oh hanno messo anche un bel po' di sicurezza a quanto pare Bene allora come vedo hanno dato precedenza ovviamente come giusto che sia alla stampa Che giustamente deve fare foto a stampe fotografe Allora ragazzi vedo McGregor Oh lì c'è Fedez ragazzi Non ci credo ragazzi c'è Fedez Chi c'è lì? Ah c'è Anima C'è Sfere Bassa C'è Ronaldo Junior Vabbè il resto Oddio lì c'è Belen ragazzi Non so se l'avete vista Qui del giocatore della Juventus con altri fotografi Vabbè Comunque si saranno dividendo i compiti Allora Un botto di fan fotografi La stampa c'è tutto Perché adesso ragazzi è una cosa internazionale Ci siamo alzati io e Agnelli Perché adesso spiegheremo tutto quanto Perché ovviamente la stampa e i fan vogliono sapere Quindi ora penso che inizieremo a parlare Ronaldo ti conviene inventarti un discorso Inventati qualcosa Perché adesso è il tuo turno Ronaldo guarda in giro e dice Che devo dire? Vabbè Ragazzi ora racconteremo qualche cavolata Allora come vedete ragazzi Sul tavolo ci sono i fogli dei contratti Che adesso firmeremo La gente ha portato due balle d'acqua assurde Madonna Quindi ora ragazzi Ronaldo e Agnelli stanno spiegando il colpo Come è stato fatto Che si sono incontrati con la gente di Ronaldo Per scherzo Hanno detto si lo lo compriamo Poi la gente di Ronaldo ha detto Si se lo volete è bossa per 100 milioni Mi piace questa squadra Non vedo l'ora di allenarmi con il qui presente Mister Allegri Seduto qui vicino Sarà una stagione esplosiva Ora firmerò il contratto E spero a per tutti i fan E in chi più ne ha più una meta Che sarò Cioè prometto che sarà un fenomeno E che farò sorridere tutti quanti Che dice signor Agnelli è bastato come discorso? Voglio i miei 30 milioni Ok ragazzi come vedete Ora ci stanno facendo appunto Le foto Non so inerente a che cosa Però è una tradizione Che tutti se tutti così Ci dobbiamo fare la foto Tutti nella stessa posizione La parte più importante del video è stata fatta Ora dovrei andare a salutare i miei compagni di squadra Che sono lì a fare altre interviste Allegri e contento Anche Agnelli Sono tutti contenti penso Di questa grande notizia Che Ronaldo è entrato nella Juventus Ciao a tutti ragazzi Vabbè Lo so che siete occupati Ci vediamo al massimo dopo nello spogliatoio Ma lo so Forse non avrei dovuto disturbare Perché anche loro stanno facendo interviste Non lo so quello che è Comunque Oddio Che schifo Questo è venuto senza pantaloni Che vergogna Vabbè Lasciamo perdere Allora A questo punto direi che la cerimonia È completata Comunque se vi è piaciuto Questo video perché Secondo me è il video più bello Perché è la presentazione ufficiale Di Ronaldo alla Juve Alla stampa Della città Del mondo intero Per cui Io vi dico una cosa Se il video vi è piaciuto ragazzi Obbligatoriamente Un bel mi piace Soprattutto se siete contenti Che Ronaldo è alla Juve Sia nel gioco Sia nella realtà Quindi commentate Ditemi la vostra Condivete il video con i vostri amici E ovviamente Come dice sempre Ronaldo Junior Rischiettivi al mio canale E attivate la campana delle notifiche Per non perdere i prossimi video Soprattutto ancora Ragazzi Ronaldo è in Italia Il nostro protagonista Preferito adesso Sempre saluto le ultime notifiche Di Instagram Saluto Gaema24 Zaka Gabriele Lucchese04 Michael Rub E Alex Olive05 Questi sono i 5 bomber di oggi Tra l'altro Come dico sempre Vi ricordo Che se anche voi Potete essere salutati Perché a volte saluto Più di una persona Più di una volta Mi basta Vi basta seguirmi su Instagram E quindi saluto le ultime notifiche Quindi venite a seguirmi Lo trovate in descrizione Lo trovate qui Basta cercare Chiocciola Rialentoni Ragazzi Ragazzi potete avere la possibilità Di essere salutati da me Da Ronaldo Junior Da Cristiano Ronaldo Cambia tutto Cambia tutto Qui Ronaldo Ronaldo Junior Agnelli Allegri Tutti quanti Buona gozzo E ci becchiamo Tutti quanti Ad un prossimo video Ciao Ma raga Ancora non ci credo Seriamente Ancora non ci credo